Il nome di Scamander appare sulla mappa del malandrino nel film Harry Potter e il progenione di Azkaban. Eddie Redmayne aveva fatto il provino per il ruolo di Tom Riddle in Harry Potter alla Camera dei Segreti. Anche se non è stato preso in use per quel ruolo deve aver fatto comunque colpo sull'arrowling perché l'attore è stata la prima ed unica scelta per il ruolo di Scamander. Grazie per la visione!